Salve a tutti, innanzitutto grazie a For Human Community. Io sono Fabio Costaldi, Counter Manager di VipDistrit e oggi sono qua a parlare dell'engagement nel 2024. Innanzitutto spendo qualche parola per raccontare chi siamo. VipDistrit è nato nel 2010 in Spagna, successivamente abbiamo approcciato i mercati portoghesi e italiani. Dove abbiamo aperto l'SRL nel 2019. Nel 2022 ci siamo ampliati ulteriormente in Francia, Germania e Olanda, dove abbiamo acquisito anche due aziende. Nel 2023 abbiamo avuto anche la certificazione 27001. Cosa facciamo? VipDistrit, ormai da più di 15 anni, sviluppa piattaforme di engagement per supportare le aziende, quindi gli uffici HR, a fidelizzare i propri dipendenti seguendo diverse modalità che andrò poi a spiegare. Oltre all'ambito HR sviluppiamo anche i veri e propri programmi loyalty. Per darvi qualche numero, ad oggi a livello europeo oltre 7 milioni di persone utilizzano i nostri servizi o HR o loyalty. Come vi dicevo, sviluppiamo piattaforme totalmente customizzate per il singolo cliente, quindi in base a ciò che un cliente vuole sviluppare per l'engagement sui propri dipendenti, riusciremo a dargli un prodotto mail or tail. Cosa è l'engagement? Ormai l'engagement è una parola che negli ultimi anni viene spesso ripetuta negli uffici HR, nei convegni, perché rispetto a 15 anni fa l'algoritmo diciamo dipendenti aziende si è evoluto. Prima i dipendenti erano felici se trovavano un lavoro, adesso sono le aziende che devono dare sempre dei servizi aggiuntivi per aumentare l'engagement dei propri dipendenti e quindi anche diminuire il rischio di turnover. Infatti un buon livello di engagement cosa può aumentare? Innanzitutto riduce il turnover. Se un dipendente è felice in azienda è certamente un suo proposer, quindi una persona che va a pubblicizzare l'azienda per nuove assunzioni. Una persona felice in azienda certamente lavorerà meglio, quindi se lavorerà meglio sarà più facile raggiungere gli obiettivi e se il singolo raggiunge gli obiettivi anche tutta l'azienda raggiungerà gli obiettivi. Quindi migliorare l'engagement è un investimento molto importante nel 2024 ma soprattutto anche negli anni a venire. Noi di Viblistri lavoriamo con le aziende su tre piloni principali di engagement. Il pilone del benessere economico, il pilone della comunicazione perché è molto importante migliorare la comunicazione all'interno delle aziende verso i propri dipendenti e la parte del feedback positivi o recognition, in quanto anche questa parte qua risulta sempre più richiesta dai dipendenti delle aziende, non solo le grandi aziende ma anche e soprattutto le PMI che sono un po' le aziende che portano avanti l'Italia. Qui per fare solo qualche nome appunto di aziende con cui già collaboriamo, noi collaboriamo sia con grandi aziende come Slunga, Unicredit, The Team, ma anche con aziende o PMI come Coface, Cartier, quindi i nostri servizi come dicevo sono iper customizzabili in base alle esigenze del singolo utente. Cosa facciamo appunto? Qual è il nostro approccio? Innanzitutto per noi l'approccio è un approccio di smart engagement. Non ci siamo voluti inventare niente di particolare, ma abbiamo digitalizzato quello che noi crediamo sia il corretto gestire il personale. Tanto che tutte le soluzioni che noi andiamo poi a condividere con i nostri partner, li testiamo direttamente prima sui nostri dipendenti nei nostri sei country. Quindi se abbiamo poi un feedback interno positivo, capiamo che potrebbe essere anche la soluzione adatta per il mercato, non solo in Italia, ma come dicevo in Spagna, Portogallo, Germania, Francia e Olanda, dove le dinamiche sono similare, ma hanno delle sfaccettature differenti. Molto interessante, innanzitutto, è che spesso le grosse aziende hanno tanti servizi di engagement per i propri dipendenti sparsi in un'intranet. Un'intranet che non sempre sono di facile navigazione. Noi abbiamo spesso supportato i nostri clienti a migliorare la UX di questa intranet, creando noi il portalone di accesso dove venivano inserite tutti i fornitori dei uffici HR. Quindi, ad esempio, con una sola password, un singolo dipendente può andare in sei, sette, otto portali differenti di fornitore della propria azienda, ma ubicati nel stesso contenitore. E, cosa non di poco conto, le nostre soluzioni, oltre ad essere la versione web, sono le versioni mobile. Quindi il singolo dipendente avrà tutte le soluzioni della propria azienda nel suo smartphone. Quindi comodamente accanto nella sua tasca dei GINUS. Come vi dicevo, a seconda dei tre piloni di engagement, abbiamo diversi prodotti. Sul pilone dei benefit, cioè quello che va a toccare un po' la parte economica per i dipendenti, un nostro servizio è quello chiamato VIP-saving, che è il portale delle convenzioni. Ad oggi abbiamo oltre 400 convenzioni con grossi brand, attiretori nazionali e internazionali, che permettono alle aziende di condividere ai propri dipendenti un mezzo per risparmiare quotidianamente sulle spese al supermercato, i viaggi, la benzina, le assicurazioni, i vestiti. Quindi un risparmio medio annuale tra i 500 e i 700 euro. Quindi questo è un supporto ulteriore che un'azienda può dare ai propri dipendenti senza aumentare direttamente lo stipendio dei dipendenti stessi. Un secondo, un altro modulo che invece tocca la comunicazione è VIP-Connect. VIP-Connect è una piattaforma di comunicazione che può essere iper-customizzata in base alle esigenze dell'azienda. Quindi che sia un'azienda del retail, che sia un'azienda della GDO, che sia un'azienda metameccanica, un'azienda di servizi, si può customizzare i contenuti con la segmentazione per far sì che la singola azienda possa raggiungere in modo più facile e più diretto tutti i propri dipendenti. Ad esempio si può mettere il canale Wizz Label Blowing, si può mettere il canale di Cyber Security, si può creare le pagine di formazione digitale dove, ad esempio, le aziende IT caricano i loro video tutorial, quindi quando un nuovo dipendente entra in azienda e deve imparare la tecnologia dell'azienda stessa, non c'è più magari la formazione face-to-face singola. Si vanno a vedere video tutorial, alla fine del video tutorial, sulla piattaforma si può creare anche dei questionari e quindi alla fine c'è la tracciabilità da back-office per capire se la persona ha seguito i video tutorial, ha effettivamente imparato o successivamente, se per caso il risultato del questionario fosse basso, può rifare il questionario. Questa è solo una delle tante opzioni che ha VipConnect. VipIncentive è invece un altro modulo che va a toccare sempre il pilone dei benefici economici perché è un modulo dove le aziende possono sfruttare delle azioni predefinite sia in ambito professionale che è in ambito privato per premiare i propri dipendenti. Facciamo un esempio. Al compleanno l'azienda regala a tutti i loro dipendenti 50 punti, all'anno, al primo anno in azienda 100 punti, a 5 anni 500, a 10 anni 1000, diventi mamma, diventi papà, diventi nonno, oppure ti sposi, quindi non solo le aziende vanno a premiare azioni prettamente professionali, ma anche da vita privata, sempre per allargare e rafforzare il legame azienda-dipendente. Questi punti che ogni singolo dipendente potrà racimolare in piattaforma, li potrà poi riscattare sotto forma di premi, sfruttando ad esempio quest'anno il margine dei fringe benefit fino a 1000 euro. Quindi ovviamente l'atto dipendente un risparmio perché avrà un importo al netto e l'atto azienda un risparmio sull'IRPEF. Ovviamente è tutto customizzato perché possono esserci anche campagne ad hoc per spingere l'ambito commerciale o, vi faccio un esempio pratico, una importante azienda di trasporti ha utilizzato questa piattaforma, questo modo nello specifico, per premiare gli autisti che effettuavano, avevano meno incidenti, consumavano meno le gomme o meno benzina. Quindi per premiare gli autisti più bravi ma nello stesso tempo anche più green perché un risparmio di benzina va a comportare anche un minore inquinamento dei mezzi di trasporto. Questo è un esempio proprio per far vedere che è una tecnologia che permette una customizzazione molto elevata. Vipshare è il modulo per gli annunci in versione digitale, quindi è un modulo per andare a sostituire le vecchie baccheche analogiche. Il Carpooling è il nostro tool per supportare le aziende che credono nel green, quindi per spingere i colleghi a viaggiare verso l'ufficio sfruttando meno auto possibili, quindi inquinando meno, parcheggiando più facilmente e risparmiando, perché se una persona prende sulla macchina metà delle volte ha già il doppio del risparmio rispetto al mese. La Vip Directory è la rubrica digitale, quindi questo va nel filone della comunicazione perché molto spesso uno dipendente in un'azienda non ha una rubrica digitale, non ha un organigramma digitale. Grazie a Vip Directory ogni azienda può avere l'organigramma in versione digitale dove ogni indipendente ha la sua pagina privata con i contatti e un QR code che va a sostituire i bigliettini da vista, quindi il QR code grazie all'app può essere visionato da tutti e anche lì andiamo a dare un supporto green alle aziende che spingo anche la parte green sull'engagement. Awards è il nostro modulo di feedback positivi che dall'anno scorso sta avendo molto successo perché sta spingendo i feedback non solo up-down ma in modo trasversale, in modo molto giocoso, simpatico tramite una gamification e questo permette a tutti i dipendenti di ringrassarsi in modo trasversale per mezzo di dei punti caricati settimanalmente ma grazie alle reportistiche aiuta anche l'ufficio personale a scoprire i diamanti nascosti che possono essere presenti nelle loro strutture soprattutto nelle strutture molto grandi. Tutto ciò che vi ho fatto o vi ho raccontato un ufficio HR può analizzarlo tramite dei back-off strutturati quindi a seconda dei moduli potrà analizzare quanti utenti stanno utilizzando un modulo o l'altro quanti viaggi hanno organizzato quanti punti hanno distribuito o quanti punti hanno redetto tutto ciò per riuscire ad avere dei dati analitici utili a strutturare un lavoro di engagement per capire anche se ciò che io ufficio HR sto sviluppando per i miei dipendenti sta dando un riscontro positivo o meno perché molto spesso le aziende fanno tantissimo ma gli manca il dato finale di analisi per capire il mio engagement è positivo o negativo quello che sto facendo sta dando i miei risultati sperati o non hanno trovato la corretta via di comunicazione quindi focus importantissimo per noi è quando partiamo con un progetto di engagement facciamo veramente un patto a quattro mani con gli uffici HR perché la tecnologia può essere utilissima ma solo se viene accompagnata da una corretta e specifica comunicazione per condividere tutto ciò che l'azienda sta facendo per migliorare la vita dei propri dipendenti io ho finito vi ringrazio e spero di non avervi annoiato arrivederci a tutti